L'obiettivo è quello di valorizzare maggiormente il santuario per le finalità che sono proprie, che soprattutto è caratterizzato dalla pietà popolare e che è diverso dalle preoccupazioni che deve avere un parroco che è quello invece di evangelizzare, catechizzare, orientare in modo diverso la vita di una comunità. Nessun trucco e nessun inganno. Le motivazioni che hanno spinto il vescovo della diocesi San Marco Argentano Scalea, Leonardo Bonanno, a nominare Don Maurizio Franco Laurito, nuovo rettore del santuario della Madonna della Grotta di Praia Mara, al posto del parroco della chiesa Sacro Cuore, Don Franco Liporace, non hanno il sapore del complotto, semplicemente si torna alle origini. A spiegarlo è stato il vicario diocesano Don Cono Araugio. Il santuario è una realtà diversa dalla parrocchia, ma questo già dagli anni 70, quindi tanti si accorgono adesso che il santuario aveva un suo rettore già negli anni 70, mentre il parroco era diverso dal rettore del santuario. Solo da quando c'è Monsignor Bonanno, per problemi legati a disponibilità sacerdotali, non era stato possibile continuare nominando un rettore per il santuario e nominando un parroco per la parrocchia. Don Franco aveva assommato in questi tre anni tutte e due le cariche, però in questa fase, poiché il santuario è uno dei pochi ormai rimasti sulla costa a livello diocesano, il Vescovo vuole promuoverlo maggiormente con una propria identità e anche con quelle che sono le attività collaterali coordinate all'interno dell'amministrazione comunale. Quindi una strutturazione diversa che possa renderlo più fruibile e quindi ha avvocato a sé quelle che sono le competenze più specifiche della gestione del santuario, nominando un sacerdote che già Praia conosce perché Don Franco è stato qui 18 anni, Don Franco laureato nella parrocchia Gesù Cristo Salvatore. E sulle voci di popolo che stanno alimentando l'idea che dietro la scelta di Bonanno ci sia un complotto, ecco cosa risponde Araugio. Si chiacchiera ma non certamente su cose che Don Franco dice, il problema è che probabilmente la comunità si era ormai affezionata ad un modo di leggersi tutt'uno e quindi ha inteso leggere questo atto non innovativo, ripeto, ma semplicemente in continuità con la tradizione diocesana del santuario. Don Franco semplicemente viene invitato a curare meglio la vita parrocchiale perché curare due realtà anche tipologicamente molto diverse necessariamente non aiuta poi a caratterizzarlo. Questo l'abbiamo visto anche a Verbicaro perché non è il primo santuario separato dalla parrocchia, ma anche a Verbicaro il santuario di Cesano di San Francesco o a Cetraro il santuario della Madonna della Neve o il più famoso della nostra diocesi, il Pettoruto che inizialmente era con la parrocchia di San Sosti e che adesso invece è un'entità a sé stante. Insomma per il vicario diocesano i complotti stanno altrove e quindi basta con le chiacchiere. Chi porta avanti queste parole non necessariamente sono persone che frequentano la vita ecclesiale, cioè quindi è come un voler creare alcune volte in modo strumentale della confusione, tante volte purtroppo attaccando la Chiesa. Cioè quindi si opera, si dice, di operare per difendere un sacerdote, per difendere un uomo di Chiesa, ma in realtà si attacca cercando di distruggere la Chiesa nella sua verità più ampia, che è la figura del Vesco, che è la figura di altri sacerdoti. Quindi è un atteggiamento difficile da intendere come ecclesiale. Sminuire, svilire, rimuovere le chiacchiere, tante volte diventa difficile. Abbiamo avuto appena adesso un incontro anche con i sacerdoti, perché è chiaro che è un problema che non riguarda solo Santa Maria la Grotta, ma riguarda tutti i sacerdoti che operano con molti sacrifici su Praia. Io leggendo qualche news di qualche giovane di Belle Speranze, dici che i sacerdoti amano la vita comoda, amano le poltrone d'oro, ma io sinceramente non ne conosco di questi preti. Io vedo che noi sacerdoti, ci metto pure io, magari sono i più vagabondi, e cerchiamo di lavorare il più possibile, ma veramente in modo istancabile, anche perché la nostra, ve lo sapete meglio di me, è una società complessa, difficile, che esige da parte della Chiesa un'attenzione e una disponibilità piena, molto più degli anni precedenti.